Grazie per il vostro impegno, una carità che si irradia nel mondo offrendo nuove iniziative che aiutano ad espandere l'abbraccio misericordioso del Padre. Sono le parole di riconoscenza che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Papal Foundation ricevuti in Vaticano in occasione del loro pellegrinaggio annuale. Nell'ambito del Giubileo della Misericordia il Pontefice ha incoraggiato tutti a proseguire lungo questo cammino di generosità senza mai stancarsi di compiere il bene e compiendo un'esperienza sempre più profonda dell'infinito amore del Signore.